eccoci qua finalmente riesco a fare il test della schiperona vediamo questa schiperona adesso andremo a mettere dentro un granato un po' di granati 1 2 3 4 5 6 una scaglia di pirite e queste pepite belle grosse fatte di piombo queste piombo le ho messe giusto per avere un occhio quando le andiamo poi a ricercare sulla canaletta per fare il test andiamo a mettere qui faccio io non lo voglio buttare tutto perchè lo puoi buttare con il laghetto ok mettiamo qui ok quindi quella grande siccome non passa dal buco dovremmo trovarla direttamente sulla griglia ok facciamo conto che con quel tubo andiamo a pescare l'acqua dalla roccia non dalla pompa quindi di capacità ce n'è parecchia chissà quante pepite che ci sono la dentro adesso eh vedete che la metto in un'altra parte quindi la posizione per caricare il materiale è questa giù tutto adesso andiamo a caricare la prima palata andiamo a vedere cosa possiamo vedere qui mentre stiamo lavando come possiamo vedere la ventita grande è lì la vediamo allora si vede è gialla è lei non è passata dal buco ma la prendiamo lo stesso quindi adesso non ne vedremo più perchè le altre sono tutte piccoline quindi passeranno dal buco se voglio la posso scaricare se no la lascio lì se vedo che non è tanta la posso lasciare lì comunque adesso in questo caso la scarico andiamo a caricare la seconda palata che vedo avevo anche ora ui come vedete lì sta lavorando deve essere bloccato per qualche sessone questa qui non si alza mai perché altrimenti porta via però non si alza mai però la fine non si alza mai e adesso andiamo a vedere se queste trappoline hanno raccolto e andiamo a vedere qua cosa ha fatto questa signora partiamo dal basso e dal basso non si vede niente anzi partiamo da qua da qua sembra quasi che non si veda niente comunque poi andiamo a controllare qui nelle trappole in basso non si vede niente qui invece vediamo cominciamo a vedere il fil di ferro cominciamo a vedere il fil di ferro nella seconda trappola qua qua niente qui eccola qua poi cominciamo a vedere il fil di ferro qui quella grossa che l'avevamo vista prima qui E le trappole erano già piene eh, comunque ragazzi, non è che erano tutto sporchi Tutte le prime cose, che sono? Quattro, la parola, 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 la parola Ok, i granati, eccoli qua i granati, anche i granati ci sono fatti, neanche i granati Tutto qua, e tutto qua dentro, e tutto qua dentro nelle prime trappoline che ho costruito l'altro giorno Queste sei trappoline sono sufficienti, magari anche di qua, non so se si vede qualche granato ma non vedo niente Invece tutto qui, e tutti in queste trappole Comunque, ottimo, ottimo ragazzi Ha catturato tutto nelle prime tre trappole Incredibile ma veribole Grazie 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 Grazie